Ma bello a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati, purtroppo, con il secondo episodio della reaction ai lifex più virali di TikTok. Come dice il nome, lifex dovrebbero essere dei trick che ti aiutano e ti semplificano la vita quotidiana. In realtà sono delle normi cringiate. C'è però da dire una cosa, ogni volta che questi video lifex mi compaiono nei perte di TikTok, io mi sento una persona un pochettino meno stupida e un pochettino più intelligente. C'è da dirlo, quindi apprezziamo. Prima di continuare col video però mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, se lo fate col mignolo del piede siete più fighi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi ricordo che tutti i giorni mi potete trovare live sul mio canale viola dalle ore 17. Trovate il link in descrizione insieme a tutti gli altri social. Se non mi seguite, i signori dei lifex joineranno casa vostra e rapiranno vostra madre. Io qua lo dico e non lo nego. Basta, troppo cringe, cominciamo. Cominciamo subito con il primo lifex di oggi dove si vede un mega brufolo, anzi di ver... Madonna, madonna, ma questa non ha un viso con dei brufoli, cioè sono dei brufoli con il viso. Madonna mi dispiace, ma cosa fa a mettere il limone? Beh, mettendo il limone sulla faccia si presume non succeda nulla, anche perché se se dovesse succedere qualcosa non ci sarebbero problemi durante l'adolescenza. Sess, vabbè, Barbie, va bene. Quindi tu metti il limone sul brufolo e diventi magicamente Barbie. Vabbè, cringe. Iniziamo subito col mega cringe, è proprio impossible. Proseguiamo col secondo TikTok. Abbiamo questa signora che si sta mangiando un bel kebab, ma non è vero! Arriva l'amico che gli dà un morso al kebab, le si scioglie tutto. Cosa ho appena visto? Ma cosa ho appena visto? Cioè ha messo la molletta, quella dell'Ikea, tipo per sigillare, no? I pacchetti, le buste dove ci metti le cose. L'ha messo in fondo al kebab. No, questo è da rivedere. Morde il panino, cade tutto e sotto non è che ci metti la stagnola, no? Ci metti la molletta che sigilla il kebab. Proseguiamo per favore, proseguiamo. Abbiamo qui una bellissima vetrata, un po' sporca. Quindi, giustamente, prendi la Coca-Cola, ci metti lo spruzzino del tipo sgrassatore e usi la Coca-Cola per pulire i vetri. Perché la Coca-Cola ovviamente non è assolutamente appiccicosa, non lascia l'appiccicume, assolutamente no. Provate a farlo, fidatevi, il giorno dopo vi svegliate che sulla finestra avete tutte mosche, moscerine e insetti appiccicati per leccare il dolce della Coca-Cola. Imbarazzante. Imbarazzante? Ma come puoi consigliare una roba del genere? Le persone cosa hanno nel cervello? Litri di Coca-Cola? Qui c'è una bellissima Barbie? Una Barbie a cui è stata mozzata la testa? No. Ma no. Ma come fai? Ma come fai a fare un anello su cui metti la testa mozzata, staccata di una bambola? Ma io spero che quell'anello sia qualcosa di macabro, proprio per festeggiare Halloween, che ormai siamo a tema. Cioè, io spero che tu non dia quest'anello a una povera bambina, le viene un collasso. Cioè, se da piccola mi davi una roba del genere, non dormivo più per il resto della vita. Ma stai scherzando? Ma con che coraggio fai un video del genere? Ma poi oltretutto la testa l'attaccata da dietro. Quindi, sotto, dal collo, si vede il buco poi della bambola. Che schifo. Ma andiamo avanti, mi viene da vomitare. Piccolo segreto. Da piccola odiavo le Barbie. Staccavo le braccia, la testa, le gambe, alle bambole. Mi dissocio. Proseguiamo. Andiamo avanti con questa signora che è piena di sabbia, quindi giustamente si spolvera il braccio, perché la sabbia va via. No! Mette il borotalco, quindi ulteriore polvere sul braccio. Ah, quindi il borotalco ti aiuta a togliere la sabbia di dosso. La sabbia è semplicemente polverina, quindi in realtà scrolli il braccio, va via da sola. No! Lei usa il borotalco, aggiunge altra polvere bianca. No! Mi dissocio! Aggiunge altra polvere bianca sul braccio, perché a quanto pare agevola la tolta. La tolta? Si può dire la tolta? Vabbè, la... Lo spolverio? Lo spolverio? Della sabbia. Inutile. Lifehacks inutile, letteralmente inutile. Abbiamo qui invece un dinosauro, che, poverino, è giocattolo e viene triturato da un trapano, gli si mette il tacco di un... Non dirmelo. Oh! Oh, aspetta! Aspetta! Questo li riguardiamo! Questo potrebbe anche essere geniale, effettivamente! Oddio, nel senso, secondo me ti si spacca tempo zero e non è fatto bene, nel senso è fatto con un giocattolo, quindi si rovina, si rompe, si vede che è fatto male, non è su misura. Però, se devi andare a fare una festa a tema, tema tipo Jurassic Park, ma sai che spacca? Ora lì! Cattivissimi! Dai, non è malissimo! Cioè, forse è l'unico lifehacks che fino adesso abbiamo visto che potrebbe avere un minimo di senso. Ovvero, mettere dei giocattoli di dinosauro nei tacchi delle scarpe. Ok, detta così non ha senso. Proseguiamo. Buongiorno, la tipa si sbadiglia, rovescia tutti i cereali per terra e vediamo come risolvere, che effettivamente mi interessa. Cioè, quindi... Quello che ho fatto per tutti i miei 22 anni di vita non è così sbagliato? Lo dice la signora di lifehacks, quindi è giusto! Quindi mia mamma non si doveva lamentare quando buttavo la polvere o le robe sotto il divano, sotto il tavolo e facevo finta di niente col piedino. Lo dice la signora di lifehacks, è giusto! È giusto! Quindi, se vostra madre vi sgrida e vi dice ma perché fai ste cose? Dove le vedi? Dalla signora di lifehacks date la colpa a lei. È lei che fa ste porcate. Comunque no, non fatelo, perché sennò anche qui il giorno dopo vi svegliate che avete i ratti, le formiche, tutte sotto il frigorifero. Ed è un problema. Oh, che carine queste due amichette che si stanno mangiando dei noodles. Questa qui decide di mangiarsi i capelli. Vabbè, ognuna ha i propri gusti. A me non piacciono, però se te piacciono. Vabbè, per risolvere, giustamente, giustamente non usi l'elastico per i capelli, no? Ti fai la codina, un mollettone, una molletta, te li fai tenere. No, tu prendi la felpa e te la giri in testa e diventi tipo una suora. E giustamente l'amica, invece che prenderla come idiota e dire ma che cacchio fai, se lo fa anche lei. Solidarietà femminile, quindi solidarietà tra amiche. Va benissimo. Cosa che probabilmente non farò mai. Voi la farete? No, lo so perché non lo farete, perché non lo sono a casa di lifehacks. Andiamo avanti. Abbiamo qui due signori in ufficio che stanno mangiando caramelle. Lui, attenzione, passo cattivo, passo falso. Sposta la ciotola delle caramelle e degli snack verso di lui per non condividere. Allora lei si arrabbia e fa un giochino all'amico, quindi non si incazza, gli fa un giochino. Gli dice di mettere le mani così, di incrociarle. Ok, poi lei le sbroglia e si mangia le caramelle mentre lui non riesce a sbrogliarsi. Io mi... Cioè, più che lei, che già dico, ma se ti ruba le caramelle piuttosto te le prendi, ti non sberlo... No, mi dissocio però. Cioè, fai qualcosa, si inventa la cosa dell'incrociare le mani proprio da idiota. Vabbè, a parte quello. Ma lui, ma come fai a non sbrogliarti da questa posizione? Ma basta che apri le mani. Cioè, scusate, scusate. Com'è che metteva le mani? C'è un attimo da capire. Portiamo avanti il video. Mani così, mani così, giri e incroci. Ok. Io ovvio che magari non mi riesco a snodare così, ma apro le mani e sono di nuovo libera, no? No? Ve l'ho detto che questi life hacks vi fanno sentire più intelligenti. Vabbè, imbarazzante. Imbarazzante. Sei un collega del genere e ce lo fai licenziare. Ma che... Mamma mia. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Proseguiamo con questa mollettina che viene attaccata all'ombrello insieme a un qualcosa di tipo di... Allora, mi scusi signora, mi scusi, ma o nella sua città piove acido e quindi hai bisogno di una protezione del genere o ti stai accampando a quanto pare magari infila un concerto o un evento o hai bisogno della tenda o non mi spiego assolutamente questa cosa. Ma cosa mi significa? Ma come puoi andare in giro con un affare del genere? Ma ti investono istantaneamente ma non vedi dove vai. Ma cosa? Ma manco veramente piovesse acido dal cielo. Oh mio Dio. Ma che porcate che si vedono su ste roba. Ma veramente... Ma sono delle gran cagate, ragazzi. Ma delle gran cagate. Ma veramente... E questi sono quelli che fanno miliardi di visualizzazioni di like? No? Facendo queste minchiate. Io mi immagino l'ora che si svegliano al mattino e tipo... Oggi... Oggi ho voglia proprio di legare una molletta all'ombrello con un telo di nylon. Ma sì, dai. E ci fanno il video. Cringe. Proseguiamo. Oh, che carina. Qua abbiamo un papà con la bambina che a quanto pare sembra un po' annoiata. O assonnà. Chiude il vetro, attacca dei pennarelli. Ah, quindi la bambina era annoiata e allora gli fai colorare con i pennarelli il vetro della macchina. Giustamente darle un foglio di carta, darle un telefono, un tablet, qualcosa per distrarla. No, giustamente facciamo colorare con i pennarelli il vetro della macchina del papà. Ci sta, ci sta. Probabilmente avessi fatto io da piccolo una roba del genere in macchina di mia mamma o di mio papà non mi sarei più trovata le dita. Ma, dettagli, non so voi, fatemelo sapere nei commenti se vi è mai successo di colorare e dipingere la macchina di un vostro genitore. Io personalmente se provavo a farlo non mi svegliavo più il giorno dopo. Proseguiamo. Allora, abbiamo qui una mamma che sta cullando il bambino e una bambina piccola che fa casino con i giochi e la mamma le dice fai silenzio che sennò il bambino non dorme. Ah, la mamma prende giustamente gira la macchinina che fa casino e non è che toglie le pile o sequestra un attimo il giochino e dice guarda, sto cercando di far dormire il tuo fratellino non fare rumore. No, lei mette lo scotch sull'uscita audio del giocattolo e così magicamente l'audio non si sente più. Allora, io ho miei dubbi nel senso io non credo che un nastro di scotch possa effettivamente bloccare tutto l'audio del gioco qualcosa si sentirà pure. Quindi, che senso ha questa cosa? Non ne ha ragazzi non ne ha come tutti i livex che abbiamo visto fino ad adesso. Andiamo avanti. Ok, feticisti non eccitatevi. Io non posso vedere ste robe capite perché non le voglio vedere ma veramente questa utilizza le mutande come appoggio del telefono che a vederlo così istantaneamente diresti pure minchia geniale se non fosse che il telefono è una delle cose più sporche che abbiamo nella nostra quotidianità perché ovviamente lo portiamo in giro sui mezzi pubblici lo diamo in mano a qualcuno lo tocchiamo con le mani sporche e tu lo metti in una delle parti che dovrebbe essere più pulita del corpo ovvero le parti intime cioè ah pure c'è pure l'animazione cioè per questa storia hanno fatto pure l'animazione dei coriandoli che vengono spruzzati dal cesso ma snorzanata cosa festeggi? festeggi le malattie che ti sei preso la patata festeggi quello no io veramente ma ci guardiamo gli ultimi due basta perché cioè ho superato il limite ragazzi cosa abbiamo qua due amiche che si abbracciano non fate cose non fate cose non posso farle vedere su youtube ah no cosa sta facendo di questa roba qua girano dei video imbarazzanti su tiktok li vedo sempre del tipo di lui che si mette in braccio lei e la veste facendo finta di essere bello grosso e passa magari tipo per come si chiamano i controlli diciamo per entrare tipo nell'aereo quant'altro e tipo fanno tutti dei video fake imbarazzante comunque come fai a non vedere che so non è umana una roba del genere non è umana o sei uscito da chernobyl oppure c'è per forza qualcuno sotto la maglia e due domande se lo farà il controllore no lui strappa il biglietto felice e fa entrare quella lì giustamente io no io non commento io no io veramente non commento andiamo con l'ultimo perché non ne posso più ragazzi non ne posso veramente più ultimo life hacks ragazzi non mi deve deludere di nuovo di nuovo i giocattoli di nuovo i personaggini animali giocattoli stavolta però gli mette la colla nelle gambe e l'attacca a un bicchiere su cui puoi mettere la carta lo scotch lo dipinge allora vi devo dire questi animaletti giocattolo non mi stanno deludendo nel senso effettivamente hanno delle idee un pochettino simpatiche per utilizzare questi giochini tipo il dinosauro nei tacchi però c'è anche da dire che secondo me andare a mettere come manico un animale attaccato da te stesso con la colla implica che appena provi a sollevare il bicchiere con liquido ti si spacca cioè quel bicchiere di vetro che vedete con la maniglia diciamo fatta da animale non durerà più di un minuto perché palesemente il peso lo fa staccare e spacchi il bicchiere di vetro quindi carina l'idea ma strutturata uno schifo basta basta direi che di video cringe ne abbiamo visti abbastanza per oggi se ne riparlerà al massimo in un terzo episodio anzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vederlo e ovviamente fatemi sapere quale di questi tiktok che abbiamo visto oggi vi ha cringeato di più ora però come al solito vi comunico che siamo giunti al termine di questo video quindi spolliciate commentate come mi sto mangiando un capello dicevo spolliciate commentate come dei pazzi noi ci becchiamo mercoledì in un nuovissimo video bella ragazzi grazie a tutti